Sta per arrivare un ciclone La città della Sicilia e Calabria, tra cui Catania, Acireale, 20 a più di 100 km orari Martina, non possiamo uscire, andiamo, scambiamo di uno sotto Io non ce la dobbiamo andare a recuperarlo, ma piuttosto tu cosa ti è successo? Ti avevo preso un ramo in testa Ciao cuoricini, io sono mamma ti E io sono macchia missi Allora cuoricini, siamo molto spaventate, ok? Adesso vi spieghiamo il perché, non abbiate paura, ok? Ma noi ce ne abbiamo tanta, dobbiamo rinchiuderci, dobbiamo chiudere tutte le finestre Sono addirittura andata a prendere Martina a scuola, molto prima Ok, Leon è a casa dei nonni, papà sta a voi al lavoro, non so dove sia, lo devo chiamare Perché sta per arrivare un ciclone Lo hanno detto e hanno mandato una comunicazione E sta per arrivare un ciclone, non è uno scherzo ragazzi, dobbiamo baricarci Prima possibile perché sta già iniziando il vento Ma mamma, stiamo sicuri qua a casa? Sì Martina, stai tranquilla, qui a casa saremo il sicuro Ma dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo chiudere tutto, tutto Dai, tu vai a chiudere la finestra del bagno, io vado da questa parte Coricini, ho paura, mi devo sbrigare Ok Coricini, chiudo le finestre perché già il vento è fortissimo Ecco, stanno già sbattendo tutte le cose Martina, stai tranquilla, ok? Martina, Martina, stai tranquilla Adesso la mamma chiude tutto, non ti preoccupare E non ci succederà, assolutamente Niente, ragazzi c'è un vento fortissimo E la verità sta per arrivare un ciclone Mamma, io ho tanta paura Qua sento dei rumori fortissimi Sì Martina, lo so Lo so Martina, si sentono dei rumori fortissimi Ed è il vento che soffia forte, forte, ok? Quando arrivano queste raffiche di vento Può diventare pericoloso perché fuori può volare tutto È successo altre volte Ma tranquilla Martina, noi ci barichiamo in casa Non mettiamo il naso fuori da questa casa Così forse ci andrà bene Mamma mia! Martina, Martina, hai sentito? Martina, stai tranquilla Martina, forse conviene scendere al pieno di sotto Dobbiamo chiuderci in una stanza Martina, Martina, vieni qua, vieni con me Devo chiamare la nonna perché sicuramente Leon sarà spaventatissimo E devo anche chiamare papà salvo per sapere dove si è rifugiato Andiamo Martina, scendiamo giù Mamma mia, sono fortissimi Sì, lo so Martina, sono fortissimi Vieni, sbrigiamoci, scendiamo Scendiamo e ci mettiamo sotto Sotto nello sgabuzzino chiusi Che è la parte più sicura, ok? Anzi! Tranquilla, tranquilla Tranquilla, forse è volata via Qualche sedia fuori nel giardino, ok? Andiamo, andiamo Vieni Dai, dai Aspetta Mettiamoci qui Mettiamoci qui Mamma mia, senti questi rumori di mattestini Mi senti questi rumori, Martina, stai tranquilla Stai tranquilla, forse dai, freddo, stai tranquilla Mamma, hai tanta paura Martina, anche io ho paura, ma non ti preoccupare Andrò tutto bene Ma che cosa sono questi rumori fortissimi? Mamma mia, senti lei Aspetta, aspetta, Martina Forse siete intorno a finestra, ok? Devo andare a chiuderla Mi raccomando Non uscire da qui Resta qui dentro, ok? Non ti muovere da qua Perché questo è molto pericoloso Stai qui, ferma E non ti muovere Perché questo è il posto più sicuro Martina Non ti muovere da qua Non ti muovere da qua Martina Martina, sì C'è la finestra aperta Martina, non ti muovere da chiuderla Stai un vento Martina, restate Respira Vado a chiudere da finestra Perchè potrei reentrare Qualche cosa all'improvviso Nella finestra Spaccare tutto Vado, c'è un vento fortissimo Uno Mamma, ho paura Un c'è la finestra Guarda che buio Vedi come sto sicuro Martina, basta c'è un vento fortissimo Anche dentro casa Moro, non ti entrai Martina, il vento dentro La finestra È fortissimo Devo arrivare La finestra Per chiuderla Ma voi lo sentite In questo momento Fortissimo Questa è una figa Escolta Signora Non dovrei aver chiuso Le porte di fuori Sono rimaste aperte Ma non importa Devo andare subito Da Martina Martina Sei tranquilla Stai arrivando Martina, non aveva paura Ho chiuso la finestra Ok Ma è meglio che ci rimettiamo là dentro Perché ancora siamo in piena tempesta di vento Ok, curicini C'è un vento fortissimo E dobbiamo baricarci in casa Ti ho detto che stare dentro il camerino È il posto più sicuro al momento Sì, mamma, ma io lì dentro Pauro È tutto buio Martina, non preoccuparti del buio Vieni Ci sono io La mamma viene con te Dai Io non sento più amore Forse il vento si è calmato Sì, Martina Effettivamente Devo dire che il vento si è calmato Ok Adesso, curicini Apriamo la porta Proviamo a salire su E vediamo quello che è successo là sopra Ok, Martina Proviamo a salire Proviamo a salire Devo anche chiamare la nonna Per sapere se a casa loro è tutto a posto Vieni, Martina Proviamo ad uscire Santo cielo Ok Ok, sì Devo dire Che si sentono molto meno rumori di prima Ok È stata una buona idea Nasconderci là dentro Qui Il vento non è arrivato troppo forte Saliamo su e vediamo quello che è successo Vieni, Martina Andiamo, curicini Vediamo se qui nel falotto è tutto a posto Ok Devo dire Che chiudendo bene le finestre Dentro casa Non è accaduto nulla Martina Adesso però Dobbiamo telefonare alla nonna Per sapere se è tutto ok Se è tutto a posto Curicini Lasciate almeno 2000 like a questo video Perché tra poco Dobbiamo anche andare a recuperare il piccolo Leon Devo chiamare la nonna E quindi dobbiamo uscire fuori per strada Mamma Mamma ma che cos'è un ciclone? È un ciclone È una tromba di aria Che spazza via tutto Mamma ma di tu fa volare anche le persone? Sì Martina In alcuni casi sì Ma comunque non pensiamo a queste cose Fammi telefonare alla nonna Ok? Anzi Accendo anche il telegiornale Vediamo che notizie ci danno Un autentico uragano mediterraneo E in tutto il sud Italia Allarme maltempo Scuole chiuse in diverse città Della Sicilia e Calabria Tra cui Catania Acireale e Reggio Calabria Una perturbazione violenta Con venti a più di 100 km orari Di numerose le chiamate I vigili del fuoco Al lavoro senza sosta Diversi automobilisti Sono poi rimasti bloccati Sul ponte San Giuliano Nel Catanese La protezione civile Ha allertato tutti i cittadini A non uscire di casa Se non per motivi Strettamente necessari Sì Martina Molto molto grave Fammi telefonare alla nonna Martina Perché devo sapere Se è tutto a posto Ok? Il mio bambino è fuori Devo anche chiamare a papà salvo Allora Chiamiamo la nonna No Niente da fare Ha il telefono staccato Martina 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 Dobbiamo andare a cercare Leon Ok? Martina io devo uscire fuori di casa Fuoricini Io devo andare a recuperare Il mio bambino Devo andare a recuperare Il mio figlio Leon Martina Non ti preoccupare Andiamo Andiamo Martina Andiamo Martina 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 Non possiamo uscire Andiamo Scampiamo di nuovo sotto Dai Martina Andiamoci A rinvalare un'altra volta Da sotto E' un figlio E' un figlio E' un figlio Dove E' un figlio Cuoricini se voi potete scrivete nei commenti Che stiamo cercando la nonna Claudia Stiamo cercando di rintracciare la nonna Claudia La situazione è veramente È veramente critica Non ti preoccupare Martina adesso questo vento passa subito Cuoricini Cuoricini credo che si sia calmato davvero Martina io non sento più rumori Sì mamma io non sento più niente Ok Martina ok La tempesta credo sia passata Ma adesso arriva la parte più critica E cioè quella di metterci in macchina E andare a cercare immediatamente La nonna Claudia e Leon Ok e devo riuscire a contattare Papa Saulo Ragazzi ancora non so Che situazione troveremo lì fuori Ok io ho anche paura di uscire Perché sono certa che troveremo una situazione veramente drastica Però Martina stai tranquilla perché Risistemeremo tutto L'importante è adesso ritrovare Leon Andiamo Andiamo Martina Saliamo Ragazzi non potete immaginare Quello che è appena accaduto qui fuori Ragazzi una tempesta di vento E addirittura la nostra macchina è spiaccicata contro un muro E' inutilizzabile devo dirlo Martina Mamma mamma cosa è successo? Niente Martina non preoccuparti Adesso mamma ti risolverà questa situazione Allora ragazzi la situazione è alquanto grave Ok io devo uscire fuori Devo uscire fuori e devo andare a cercare nonna Claudia Questo già lo sapete ma non posso farlo Non posso farlo perché la macchina è finita schiantata contro un muro dal forte vento Che vuol dire una macchina che si è spiaccicata contro il muro? Eh che vuol dire che vuol dire Martina? E' quello che hai capito Si la macchina la nostra macchina è spiaccicata contro il muro E' inutilizzabile Noi siamo bloccati qui in casa Non possiamo uscire Non possiamo andare da nessuna parte E io adesso devo chiamare i rinforzi Mamma ma allora segui Trappola Siamo spiacciati Martina Martina la cosa più grave è che non riesco a telefonare a nonna Claudia Riprovo Pulicini riprovo No 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 niente da fare ancora il telefono staccato Provo il papasolvo Mamma mamma ma sei più papasolvo Pulicini sarà il papasolvo Apro la porta immediatamente State tutti bene? Si è stato un vento fortissimo Papasolvo ma cosa è successo? Ma dov'è Leon? Leon non c'è dobbiamo andare a recuperarlo Ma piuttosto tu cosa ti è successo? Sente avevo preso un ramo in testa Mi è arrivato un ramo fortissimo con un vento impressionante Ci sono tutte le strade bloccate Santo cielo dobbiamo andare subito a recuperare Leon Papasolvo ce la devi fare Ok dobbiamo andare a recuperare Leon Andiamo Cuoricini iscrivetevi al canale E lasciate un attirare Tu lo ura quel cimic? Ce la faremo Andiamo 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 Andiamo